ternan a vincere non ci credo fai fatto una granata mentre cadevo in aria dove sono le puttane camberate? dove sono? poi adesso ti becchi la mossa finale zio soldato nemico in arrivo figlione t'ammazzo porco dio t'ammazzo non mi devi rinforare il coltello doppia mossa finale spring dica a me sparava da 200 metri a 100 metri dove cazzo andiamo tutto come il PKM c'era un po' questo qua che è sul tetto è il miglior mitragliatrice leggeri lassù uh bello in gallina qui vediamo che tutti insieme raga ttm4 spr se riesco a prendere il lancio loot lancio e go loot lancio e camperale come i porchi no vabbè io ve lo dico questa non la passiamo ma cos'è dentro? o sul tetto si ma non la passiamo comunque chi è sotto? io entro da qua raga indico la zona bersaglio ma chi è una metà? l'obiettivo principale è l'obiettivo è caduto giù cassa di scorte pronta per il repugn questo è vero che ho trovato richiedo ricognizione sulla mia posizione qui jaguar 3-0 confermato contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato si sa che c'è l'rpd bugato comunque eh raga per ogni volta ci è fatto caso che quando usi quel mirino del cazzo diventa una porcheria ma non c'è nessuno qua raga sono usciti in un posto giusto al momento giusto non c'è nessuno sul tetto eh ma adesso sono uscito giù sono in prison si anch'io sono in prigione sto facendo la contratto aggiornato nuovo obiettivo identificato però non ho quanti soldi la lancio c'è già esagerato anche eh mi si interessa eeeh eh lancio mi chiara io lo farei subito piuttosto continuo a luttare dopo e mi serve dove cazzo si sale lasciamo da qua prendiamolo quello qua no c'è la ah no non c'è la cosa vabbè dammi a me sti cazzo di soldi vado io quindi tale posizione marcata qua fuori andiamo qua sotto silenzio aprofittare adesso che si push non lo prendo marco dio gole via no raga aspetta lo lancio dentro grande per la copertura lo lanciamo qua in zona ma dove ah è qua fuori la zipline lo lancio qua raga arriva un lancio d'equipaggiamento eh ma arriva sul tetto no no non arriva sul tetto è qua sotto hanno fatto un lancio qua sotto eh raga dove? qua sotto qua posizione marcata se bolla sei troppo scoperto torniamo dentro vado sulla posizione un po' più alta dove cazzo è la zipline qua davanti vado sul tetto un tiratore io sto salendo la zipline ok sono su qualcuno ha munizioni del cecchino che non usa? 13 vieni 8 passa passa intanto per me è tale com'è che ti chiami Nicolò? si ok taglietta eh dov'è che l'hanno fatto sto altro innesimo lancio? voi lo siete su? aspetta che salgo raga siete sul tetto voi? si ah eccolo la ha fatto la lancio raga indico le coordinate da raggiungere si si scannano la grande proprio il tetto qua lo sta carando uno sono atterrato morto bravi c'è un altro sul tetto qua da qualche parte ecco quello è craccato ma porco dio ma che cazzo c'è questa armata di merda? stanno facendo la ricognizione qua dentro eh qua 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 raga dove qua? ah sul tetto c'è gente che gli sta sparando giuda che cecchina niente a terra confermato bisogno di colpi da salto c'è altra gente sul tetto eh anche sotto di noi c'è gente oltre tutto si tole che un tanto per adesso non li sto usando ah dobbiamo coprire aspettate copriamo con la porta la copriamo con la porta la si bravo speriamo che siano ancora in giro arrivo il volo grazie eccolo la dove? eh sta correndo sotto il muro appena passa gli faccio saltare la testa eccolo qua straccato lasciate stare bastardo raga io sto controllando la porta si cazzo non sono craccato dove andare a terra cristo dio questo cos'è una taglia un rifornimento prendiamoci il gasso al culo raga che ci prendiamo l'altezza e occhio alla torre temici in zona sembra che c'è l'arancio in toccolo oh oh giuda ma dove cazzo è? io ve lo fingando l'ho craccato Ale finiscilo nooo c'è un cecchino sulla torre Ale c'è un cecchino sulla torre ah no 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 c'è gente dietro c'è un cecchino sulla torre occhio occhio ma come ha fatto? porco dio ma no ma mi sparava anche da dietro a me volo infatti c'era uno sul tetto dove non l'abbiamo coperto prima resisti perché sta venendo a luttare lì e resisti resisti 8 7 no no non pushare dai che merdata siamo nella merda adesso ma poi che cazzo di arma aveva? il dmr di merda ancora hanno rotto il cazzo io dovrei tornare a prenderle armi eh ma micchia si ma che palle sti camperazzi di merda oh uno è la davanti soldato nemico no son caduto ah dai le due spalle è arrivato uno dove è? ma le mie robe attacco al grappolo no 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 che uno qua davanti vale eh alla nuova zona sicura dove cazzo è andato? non ho preso neanche il sensore sono da me sono da me sono da me sono da me qua 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 venite qua no ho sbagliato ma non ho neanche il sensore cazzo è riuscita a salire sul testo che roba per tale che ricarico uno è qua davanti eh se non è una esca cazzo che sto aventi scesa nell'area occhio in alto dove 21 metti a sinistra una traccia gente sopra di noi probabilmente eh si io non ho fatto mezza kill è schifo là sono nel palazzo non ho là dentro no 32 sono sopra sono sotto che cazzo fa là è 39 vado a prendermi il bilofilo adesso andiamo a 30 cazzo raga potremmo fare il lancio però eh no eh no ah no voi si ma io non c'è più cazzo porto oddio vediamo le munizioni d'assalto ale eh qualcuno cazzo in arrivo io non ho sensore qualcuno deve censorare raga no dobbiamo andare raga veloci 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 nel cazzo questa va non ho più piastre io ne ho un po' adesso ve le droppo è uscita gente da qua di fianco eh 42 metri a destra anche a sinistra c'è gente terra quello perché scappò il gas? da terra quello lì eh spero che non c'era il gas tratto fallito l'obiettivo è fuori portata qualcuno qua dentro che tossisce eh non c'era uno morto uno quello in volo tra caso alle scale va dietro le scale la ce n'è uno le piazze le piazze le piazze le piazze via da lì raga che demonio raga sacca quello sacca sacca qua dentro vi do le piastre ho il pingatore ho il pingatore siamo 3 contro 2 contro 2 ho 3 contro 3 contro 1 uno è qua in mezzo aspettate stanno fight andola lasciateli stare venite di qua finitra venite con me sono tutti qua fermi fermi vai raga uno è craccato uno è qua si sta ressando Ale è qua si sta ressando si è identificato no 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 spiastrati Ale si Ale spiastrati sei uno contro uno sono due contro tre no perché sta arrivando sta arrivando Ale sta arrivando è sotto è sotto è sotto è sotto dove siamo morti noi ricarica al ricarica infatti la roba dove siamo morti noi arriva 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 dietro di te sotto 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 guarda sotto guarda sotto grande Ale grande e maschera cosa fai non la usi è nostro cosa si uno contro uno si si poi mica lì non c'erano la maschera è perché erano due contro due sempre lì che stavano fightando noi siamo arrivati da dietro c'era già gente lì armi rubate posso andare via soddisfatto con un doppio primo posto bravo ah minchia buono minchia bombale 8 kill non male